Ciao a tutti e benvenuti sul canale. In questo video vi presentiamo le anticipazioni settimanali della promessa dal 6 al 12 luglio. Prima di iniziare, vi chiediamo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nulla e lasciate un like se anche a voi piace questa bellissima serie spagnola. Cominciamo! La promessa riceverà nuovamente Antonio de Carvajalici Fuentes, una sorpresa che Margarita ha preparato per allegrare Martina e, nel frattempo, sorprendere sua cognata, riprendendo il controllo della situazione. Alla Marchesa non fa affatto piacere riceverlo di nuovo, e neanche a Curro. Ma la sorpresa non finisce qui. Il duca arriva accompagnato da un amico, Don Pelaio Gomez della Serna, cosa che aumenta la rabbia di Donna Cruz. La presenza dei due giovani sconvolge la promessa, in un momento in cui dovrebbero essere in lutto per la morte di Fernando. Ma si tratta di un nuovo stratagemma di Margarita contro Cruz. La Marchesa rimprovera la cognata, per non averla nemmeno avvisata del loro arrivo. Margarita attribuisce tutto a una svista, ma Cruz la minaccia direttamente, dicendole che pagherà caro per questa svista. Solo Lorenzo riesce a calmare gli animi di Cruz davanti all'iniziativa della cognata, che si muove nel palazzo come se fosse il suo. Non è l'unico problema della Marchesa. Pia è decisa a ricattarla, sapendo che Petra non avrebbe agito se non fosse stata mandata da lei, e non intende lasciarla impunita. Tutti cercano di fermare la governante, consapevoli del pericolo che rappresenta. Romulo l'avverte dell'importanza di non vacillare e di andare fino in fondo, perché altrimenti sarà persa di fronte all'imponente Cruz. Ximena e Abel continuano con il loro piano per fingere l'aborto, ma sembra che non stia andando bene, perché Ximena sembra stare perfettamente in forma e di essere pronta a fare qualsiasi cosa, proponendo addirittura a Curro e Catalina di andare a fare un bagno alle Las Posas, cosa insolita per lei, e che lascia i ragazzi perplessi. Nel frattempo, una nuova conversazione tra Hana e Abel fa emergere nuovamente il nome di Ximena, ma il medico insiste con la cameriera che è convinto che non sia lei la persona che la preoccupa, lasciando intendere ancora una volta il sospetto di una relazione tra Hana e Manuel. Hana, stanca dell'insistenza del medico, gli dice chiaramente che non sa di cosa stia parlando, ma lui non si arrende. La ricerca di Ramona non dà frutti, sembra che sia stata inghiottita dalla terra. Tuttavia, c'è un luogo in cui non hanno ancora cercato ed è la tenuta della promessa. Curro prende in mano la situazione e pianifica di partecipare alla ricerca, volendo andare anche alla capanna per recuperare il suo fazzoletto, ma Lorenzo gli nega categoricamente di uscire dal palazzo. Lorenzo parla con Cruz e le racconta di aver sentito Margarita sospettare che sia stata lei ad uccidere Fernando e l'avverte dell'urgenza di agire per evitare problemi seri con la cognata. Finalmente, sembra che la pace arrivi tra Maria Fernandez, Lope e Salvador, che sono convinti di mettere da parte l'amore e vivere un'amicizia tra i tre. Ma sono davvero convinti o stanno solo ingannando se stessi? Nel frattempo, Carlos si confida con Simona perché Candela non risponde alla sua proposta di matrimonio e le rivela il motivo per cui ha tanta fretta di ottenere una risposta. Ximena ha fatto finta di cadere per simulare il suo aborto. L'atteggiamento di Ximena mette in pericolo la sua gravidanza agli occhi di tutti con questa caduta. Emmanuel è preoccupato all'idea di perdere suo figlio, tanto che il signorino si confida con Hannah, che lo rassicura poiché Abel si sta occupando di lei, senza sapere però che il medico in realtà continua ad aiutare Lady Bugiarda nel suo piano per fingere l'aborto senza che il marito possa sospettare nulla, anche se ora è attento a sua moglie più che mai dopo quanto accaduto. Contrariamente ai desideri di Cruz, Alonso dà il permesso ai vicini di cercare Ramona nei terreni della promessa e permette anche che il servizio partecipi alle battute di ricerca. Ovviamente, la sua iniziativa non piace a sua moglie, che sembra non voler seguire la strada tracciata da Alonso. Nonostante ciò, Ramona continua a non apparire, il che preoccupa sempre di più Hannah e Curro, poiché è da molti giorni che non si hanno notizie di lei. Cominciano a sospettare che Cruz abbia motivi per volere che Ramona non venga trovata. La presenza di Don Antonio e Pelaio non passa inosservata, specialmente per Curro, che rinnega il principito dopo aver perso Martina a causa sua. Mentre Margarita forza Martina a usare le sue armi femminili per conquistare Antonio, Curro ascolta casualmente una misteriosa conversazione telefonica del duca di Carvajalici Fuentes, in cui assicura che il suo matrimonio con Martina non avverrà, nonostante i suoi desideri. Curro non tarda ad avvisare Martina di ciò che ha sentito, cercando di metterla in guardia. Sembra che Catalina abbia trovato in Don Pelaio il suo complemento perfetto. La ragazza condivide con lui l'idea imprenditoriale per ampliare i benefici delle coltivazioni della promessa, che riguarda la produzione di marmellate. La giovane incoraggia il servizio a continuare con la produzione del dolce e Pelaio si inserisce nel processo. Il conte promette di mantenere il segreto, ma è interessato agli affari di Catalina. Pia finalmente trova il coraggio e ricatta la Marchesa, la cui reazione è imprevedibile. Nonostante tutto, Cruz accetta il ricatto e rispetterà le condizioni che la governante le chiede per mantenere il silenzio sulla sua implicazione nel rapimento del bambino, il mantenimento e la formazione di Dieghito. Ma la Marchesa cederà così facilmente? Cruz deve anche affrontare Margarita, che afferma di avere prove che non ha soccorso Fernando durante il suo infarto. Infine, Mauro non riesce ad allontanare Teresa da Feliciano e si confida con Lope. Il suo compagno gli chiede quali siano i suoi veri sentimenti verso la cameriera. Martina non riesce a credere alle parole di Curro e, pensando che siano solo frutto della sua gelosia, cerca di verificarne la veridicità chiedendo spiegazioni ad Antonio. Il giovane duca finisce per confessare che non ci sarà il matrimonio. In realtà, la sua famiglia ha permesso la partecipazione di tutti alla Garden Party come parte di una prova. Si trattava di un esame a cui i suoi genitori hanno sottoposto Martina per verificare che potesse essere una degna moglie per il loro figlio e, alla fine, non ha superato la prova. Questo per Margarita sarà il fallimento di tutti i suoi piani. Per Martina e per Curro, invece, potrebbe essere una buona notizia, poiché potrebbero tornare a stare insieme. Don Antonio de Carvajal i cifuentes si congeda da Martina e lascia la promessa con una cortese scusa, consegnandole una busta con una somma importante di denaro per i disagi causati. Una cosa è chiara. Il servizio non sentirà la sua mancanza e tutti festeggiano perché c'è una bocca in meno da sfamare, mentre Cruz non perde tempo a mettere il dito nella piaga di sua cognata e a godersi la vittoria. Lorenzo, Manuel, Abel e Cruz si riuniscono con Shimena. Suo marito le fa sapere che crede che stia correndo troppi rischi, ma Abel, come medico, minimizza la questione. Cruz sospetta sempre più del medico, il che fa sorgere dubbi anche negli altri, e specialmente in Manuel, sulla sua competenza. Il medico va a sfogarsi con Hana, ma Manuel l'interrompe. Allo stesso tempo, Candela esplode nuovamente contro Feliciano per la sua implicazione nel rapimento del bambino di Pia. Nel frattempo, al palazzo, le squadre impegnate a trovare Ramona non cessano le ricerche e questa volta nelle terre dei Marchesi di Lujan trovano qualcosa che le appartiene, la sua borsa con le erbe, dalla quale non si separava mai, il che fa intuire che le sia accaduto qualcosa. Non sono buone notizie e questo significa solo che le speranze di trovare la donna sono sempre più lontane. Cruz, infine, accetta il ricatto di Pia in cambio del silenzio sulla sua implicazione nel rapimento e soddisferà le condizioni richieste dalla governante, ovvero il mantenimento e la formazione di Dieghito. Pia si sente vincente, ignorando il pericolo che comporta affrontare Cruz, che ovviamente ha ancora delle carte da giocare e non tarda a coinvolgere Lorenzo nella situazione. Pia si illudeva di aver concluso un buon accordo con Cruz e sì, la Marchesa ha accettato il ricatto, ma ha imposto una nuova clausola per cui Petra potrà tornare immediatamente alla promessa. Simona si confida con Lope e gli racconta la vera ragione del comportamento di Don Carlos nelle ultime settimane, che non ha nulla a che fare con Candela né con la sua proposta di matrimonio. Anche se sa che la sua amica merita di essere felice, Simona è molto triste al pensiero che Candela possa lasciare la promessa. Per quanto riguarda Hanna, la cameriera racconta a Curro di aver trovato il ventaglio di Cruz nella capanna di Ramona, il che le fa pensare che la Marchesa possa essere coinvolta nella sua scomparsa. Hanna decide di parlare con Manuel per esporre i suoi sospetti. Ximena, da parte sua, continua a mostrare un'euforia apparente, ma in solitudine si rattrista, pensando che quando smetterà di essere incinta, agli occhi di tutti tornerà a essere invisibile. Cruz inoltre ordina a Pia e Romulo di sorvegliare sua nuora affinché non commetta alcuna pazzia che possa mettere a rischio la sua gravidanza. Tuttavia, Catalina ritiene che la Marchesa stia esagerando con la povera Ximena e glielo fa sapere, sostenuta da Don Pelaio, che per essersi intromesso ottiene l'inimicizia di Cruz. Alonso contraddice nuovamente sua moglie e si offre di aiutare Martina e Margarita a gestire l'eredità di Fernando, anche se sua cognata lo sorprende con una richiesta inaspettata. Curro non si arrende e continua a sostenere Martina, che è distrutta ora che sa che la sua famiglia non potrà avere il sostentamento economico necessario. questo porta a un nuovo avvicinamento tra i ragazzi. Ana consegna a Manuel il ventaglio di Cruz e lo mette al corrente dei suoi sospetti sull'implicazione di sua madre nella scomparsa di Ramona, ma il ragazzo non reagisce come lei si sarebbe aspettata, provocando una grande delusione nella cameriera. Manuel, infatti, non denuncerà sua madre per quante prove Ana gli possa portare. Allo stesso tempo, emergono nuove ipotesi sulla scomparsa di Ramona. Dopo aver setacciato tutte le terre vicine, sarebbe dovuta già apparire, viva o morta. Forse la donna ha deciso di andarsene, ma Ana è ancora convinta che non se ne sia andata di sua volontà. Catalina sembra aver trovato in Pelaio il suo complemento perfetto. Il giovane si offre di aiutarla nella produzione su larga scala delle marmellate per poterle esportare in tutta la penisola. Senza dubbio, questo rappresenta un passo avanti nella loro relazione. La vicinanza tra loro è sempre più evidente. Il ragazzo vuole vederla da sola e addirittura le fa complimenti senza alcun pudore. Catalina e Pelaio condividono con il marchese la loro intenzione di produrre marmellate ed esportarle in tutto il paese, cercando la sua approvazione. Così, i due parlano con lui per ottenere il suo consenso, senza rendersi conto che questo avrà conseguenze indesiderate per il povero Lope, che dovrà lasciare le cucine e tornare a fare il lacché. Simona e Candela cercano di evitarlo parlando con Romulo, ma c'è poco che possano fare. La decisione è già stata presa. Per quanto riguarda Lorenzo, sta rivalutando la sua permanenza alla promessa, poiché si annoia e pianifica di viaggiare a Cordoba per visitare il casino e giocare a poker. Alonso non vede questa idea appropriata, dato il poco tempo passato dalla morte di Fernando, ma forse possono fare qualcosa per intrattenerlo. Il piano di Cimena e Abel procede, nonostante l'impazienza della ragazza, che vede come tutti diano più importanza al bambino che aspetta, rispetto a lei. Manuel le impone di mangiare una fetta di fegato con la scusa di nutrirsi bene e riprendere le forze, e questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Cimena crede che sia arrivato il momento di mettere fine a tutta la farsa. Candela è ancora piena di dubbi sulla sua relazione con Carlos e, cercando ulteriori consigli, si rivolge a Romulo. Il maggiordomo, però, preferisce evitare la situazione complicata in cui lo ha messo la sua collega. Allo stesso tempo, Pia ha una conversazione con Feliciano. La governante cerca di far aprire il ragazzo e lo mette alle strette chiedendogli se è stata Petra a ordinare il rapimento del suo bambino. Cimena non ne può più ed è decisa a porre fine alla sua falsa gravidanza il prima possibile. Abel riesce a frenare le intenzioni della donna chiedendole più tempo. Fingere un aborto non è qualcosa che si possa fare da un momento all'altro, almeno se si vuole che sembri reale, ma Cimena lo pressa per portare a termine il piano quanto prima. La verità è che il medico pensa ai propri interessi, che non sono altro che avvicinarsi a Hana e una volta che Cimena smetterà di essere incinta agli occhi di Manuel causa aborto, la sua relazione con la cameriera potrebbe rafforzarsi. Il medico, cercando di affrettare i tempi, regala un fiore alla cameriera, ma Hana non la prende bene, chiarendo che avevano deciso di conoscersi poco a poco e lui, ansioso, le chiede se vuole continuare a conoscerlo oppure no. Ciò che ignora è la preoccupazione della cameriera a causa delle continue delusioni provocate da Manuel per non voler affrontare sua madre riguardo alla scomparsa di Ramona. Anche Curro sembra avere la soluzione, ma ciò richiede che suo cugino mostri il ventaglio a sua madre. In questa posizione, Cruz non avrà altra scelta che rivelare la verità. Tuttavia, il ragazzo crede anche che non dovrebbero affrontare la Marchesa direttamente e devono essere più furbi di lei. Così, Hana insiste nuovamente con Manuel affinché affronti sua madre e questa volta il signorino sembra disposto ad ascoltarla. Martina continua a vagare come un'anima in pena per il palazzo e persino Simona cerca di consolarla. La verità è che le parole della donna l'aiutano più di quelle degli altri. Catalina, da parte sua, ha una richiesta per Alonso. Vuole che interceda presso Cruz affinché Lope possa tornare in cucina. Allo stesso tempo, l'ammirazione di Pelaio per Catalina aumenta ogni giorno di più, specialmente dopo aver parlato con Manuel, al quale esprime la sua ammirazione e qualcosa di più per sua sorella. La verità è che i due hanno molto in comune per formare una bella coppia. Cruz si guadagna l'ira di Catalina, vedendo gli ostacoli che la Marchesa pone alla loro impresa nella produzione di marmellate. La ragazza si sfoga con Alonso, ma anche con Pelaio e questo unisce ancora di più la coppia. Lorenzo ottiene l'autorizzazione di Cruz per organizzare una partita di poker al palazzo, mentre Pia continua a posticipare la firma dell'accordo con la Marchesa. Da un lato desidera il meglio per Dieghito, ma il ritorno di Petra potrebbe essere un prezzo troppo alto da pagare. Hanna incoraggia la governante a firmare, poiché i benefici sono maggiori. Feliciano crede che avrebbe dovuto difendere meglio Petra, ma la sua compagna gli fa capire che anche lui sta pagando il prezzo, non avendo agito nel modo corretto, poiché avrebbe potuto rifiutarsi di aiutarla. Terminano qui queste nostre anticipazioni. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete Voglio il seguito nei commenti e se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie.